Non è che l'abbiamo concesso, è stato bravo il Pescara a sfruttare la sua caratteristica perché comunque è una squadra che ha grande qualità, io credo che per quanto mi riguarda è la migliore squadra che ho visto fino a questo momento in termini di qualità, di giocatori. Poi è stata una partita equilibrata, poi il risultato lascia il tempo che trova. Oggi direi che siamo stati bravi nell'unione, nella compattezza, siamo stati bravi nel ripartire. Abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni ma dal punto di vista mentale abbiamo fatto una partita giusta. 61% di possesso palla del Pescara, 39% del Perugia. Vi siete un po' snaturati come squadra che ama giocare e fare anche tanto possesso palla questa sera contro il Pescara. Un Perugia cinico, tre tiri in porta, tre gol. A volte il calcio è fatto anche di queste cose. Ho fatto anni in cui ne facevo 15 di tiri in porta e non facevamo neanche un gol. Però il calcio è fatto anche di queste cose. Le squadre devono saper fare un po' tutto perché ogni partita ha una storia a sé. Puoi trovare squadre forti davanti che ti schiacciano, che hanno qualità come il Pescara, soprattutto in metà campo, nei due o tre quartisti. E lì sono momenti in cui una squadra deve sapere anche soffrire e deve essere cinica nel ripartire. Voi mi conoscete, io non ho piedi sulla lingua, vi dico sempre la verità. Non l'ho preparata così. Noi l'abbiamo preparata per provare ad andare a prendere il Pescara in avanti. Sono stati bravi loro a palleggiare, non riuscivamo ad andare a prendere avanti, però al tempo stesso abbiamo preparato la partita perché sapevo che il Pescara ci avrebbe potuto mettere nella nostra metà campo. E in quei momenti noi avremmo dovuto essere assolutamente ordinati in campo. Quello che abbiamo fatto, abbiamo concesso magari qualche triangolazione di troppo ai loro giocatori davanti, ma poi comunque siamo stati sempre abbastanza ordinati e compatti perché serve anche questo. Quali emozioni e quante emozioni giocare contro il Pescara, la squadra della tua città, la squadra con cui hai vinto un grande campionato di Serie B e poi trovare come avversario solo per 90 minuti Luciano Zauri? Innanzitutto faccio i complimenti a Luciano perché, ripeto, non sono un ipocrite. Dico sempre quello che penso e lo credo veramente. Per quello che ha dimostrato il Pescara stasera è la migliore squadra che ho visto fino a questo momento, quantomeno per qualità delle giocate che ha, dei suoi giocatori. Per me incontrare il Pescara è comunque sempre un'emozione. Io credo di poter dire senza patemi d'animo che l'emozione più grande della mia vita non l'ho vissuta ad Atene, non l'ho vissuta a Berlino, ma l'ho vissuta a Pescara. È la verità, probabilmente perché poi le vittorie che raggiungi da allenatore sono sicuramente amplificate rispetto a quelle da calciatore, ma soprattutto perché l'ho vinto con la squadra della mia città, la squadra per cui da bambino andava allo stadio e tirava i coneandoli. Quindi sono soddisfazioni che sono impagabili. Poi il calcio è fatto di momenti belli, momenti brutti. Io a Pescara ricordo solo i momenti belli, quelli brutti li lasciamo da una parte. Ma a Pescara no, perché ci torno spesso. Ma no, ma io, ragazzi, che volete che vi dica? Io sarò sempre riconoscente al presidente perché mi ha dato l'opportunità sostanzialmente di allenare per la prima volta tra i grandi e questo non lo toglierà mai nessuno. Porto con me i ricordi non belli, meravigliosi, di un'annata e un mese. Un'annata e un mese vissuti meravigliosamente, straordinariamente bene, dove la mia gente, i miei amici che erano in tribuna mi hanno sempre sostenuto e ho capito anche i fischi della Serie A, ma ci stanno e sono fischi di amore. Con l'Inter e il Napoli il più bel Pescara di sempre è tuo? Con l'Inter e con il Napoli? Sì, ma anche col Sassuolo. Diciamo che le prime dieci partite non siamo stati troppo fortunati. Però mi porto dentro anche quello. So che non sono ricordi belli magari per il tifoso del Pescara, ma sicuramente neanche per me. Però sono momenti di crescita anche quelli. Sicuramente abbiamo tutti quanti commesso degli errori, ma nella vita chi non prova non sbaglia. Quindi noi ci abbiamo provato, abbiamo sbagliato. Mi tengo l'amore dei tifosi del Pescara che mi hanno dato per l'anno e mezzo. Mi tengo i fischi di amore che mi hanno dato i tifosi del Pescara, perché poi alla fine sono fischi di frustrazione, la stessa frustrazione che avevo anch'io dentro di me in quell'anno. Ahimè, sfortunato, diciamo sfortunato. Massimo, per chiudere, hai detto la più grande soddisfazione da giocatore e da allenatore quel campionato vinto col Pescara. Allora torniamo all'attualità di oggi. Questo Pescara, il tuo Pescara, da tifoso ovviamente parlo, può fare in questa stagione un campionato da protagonista? Se io fino ad oggi ho visto la migliore squadra, il Pescara, che è venuto qui a Curie o comunque che ho visto in Serie B, sicuramente il Pescara si può giocare tranquillamente le sue carte. È un Pescara forte, è un Pescara di qualità. Poi ogni squadra ha le sue problematiche, ogni squadra gli manca qualche puntello, ma quando hai direttori sportivi come Giorgio difficilmente le squadre vengono fatte male e quindi complimenti a lui, al Presidente, complimenti a Luciano che la sta guidando bene e speriamo di ridere assieme. Vediamo degli occhi lucidi quando parli del Pescara. Da bambino andavo in curva io, quindi non è che posso negare l'amore che ho per la maglia del Pescara.